Ciao amici, io sono Edoardo, io non Eri e questa è la New School Reunion. Oggi vogliamo giocare insieme a voi a Indovina chi l'ha detto. In pratica leggeremo una frase e poi dovremo cercare di capire chi l'ha detto. Non sarà facile perché comunque ogni personaggio ha sommature diverse, caratteristiche diverse, però con il vostro aiuto sono certo che ce la faremo. Oggi è il giorno della sfida del gorilla, vale 20.000 punti. Devo fingere di essere una scimmia tutto il giorno senza parlare. Beh, chi può averla detta? Beh, parliamo di sfida, io penso di essere qualche personaggio che potrebbero averla detta. Siamo tutti d'accordo su chi può essere? Ok, diciamo. Sì, io direi Nick Rivellini. Nick, vediamo se abbiamo indovinato. Va bene. Oggi è il giorno della sfida del gorilla, vale 20.000 punti. Devo fingere di essere una scimmia per tutto il giorno senza parlare. A partire da... Adesso. Dai, che grande. Eh, hai visto la prima Nick? Grande. Grazie amici. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.